Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Il Grande Fratello ha annunciato l'uscita di un concorrente dalla casa durante la notte, ecco cosa è accaduto e perché. La notizia è stata diramata in via ufficiale attraverso gli account social del Grande Fratello. Il fatto è accaduto alle tre di notte e quindi tutti hanno appreso la notizia solo successivamente. La redazione ha scelto comunque di procedere e di dare informazioni chiare su quanto stava accadendo. Su social infatti è apparso il un messaggio in cui si annunciava l'uscita di un geffino, senza però fornire particolari chiarimenti in merito. Chiarimenti che sono arrivati solo successivamente che hanno portato certo scompiglio nella casa. Concorrente esce nella notte dal Grande Fratello.Marco Maddaloni alle tre di notte è uscito dal Grande Fratello, come si apprende dai canali ufficiali del reality, per motivi personali. È stato solo Paolo Masella successivamente a chiarire a Beatrice Luzzi il motivo di quanto accaduto. Ovviamente il GF consente di uscire dal programma solo quando ci sono motivazioni specifiche e anche serie, per questo si era creata una certa tensione tra i concorrenti, preoccupati di quanto stava accadendo. La regia ha censurato l'uomo proprio mentre stava spiegando quanto accaduto. Ha detto sottovoce, voleva informazioni sul contratto e poi è stato bloccato. Molti hanno pensato a motivi familiari, invece secondo Masella sarebbero di altro tipo. C'è da dire che Maddaloni nel corso della puntata, quindi prima che lasciasse la casa, aveva già dato segni di insofferenza. Nel confessionale aveva detto sono stanco, mi manca mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a chi sta qui da più tempo di me, ma sinceramente sono arrivato. Mi manca il loro odore, voglio svegliarmi la mattina con loro. Che vi siete messi in testa? Quanto dura questo programma? Mi fa piacere che sta andando bene, però. Durante la notte ovviamente l'uscita può essere sospetta perché o indica un'emergenza familiare o potrebbe, come pensano i concorrenti e le persone a casa, indicare qualcosa da tenere segreto. Ovviamente si tratta solo di congetture. Gli autori del Grande Fratello potrebbero anche aver scelto di far uscire Maddaloni per gestire meglio il momento difficile del concorrente, dovuto a una possibile ansia o a un malessere causato dalla lontananza da casa. Dopotutto è più che plausibile, essendo passato molto tempo e anche considerando il fatto che i concorrenti sono comunque totalmente isolati dal resto del mondo, e quindi lontani dai figli e dalla famiglia, cosa che alla lunga può avere effetti deleteri sullo stato d'animo.